E' un luogo che ti viene in soccorso nel momento del bisogno. Perché a questa biblioteca riesco a trovare sia i testi che mi servono per il lavoro, per l'ufficio, per l'attività amministrativa, sia i testi che mi interessano per le mie passioni personali. Non migliorerai niente perché è perfetta così. Riguarda la ricerca di un libro molto particolare perché era la traduzione in latino di un libro scritto in lingua araba a Baghdad med del 1100 e quindi non era proprio facile da trovare. Però con l'aiuto delle bibliotecarie sono riuscita a individuare un'altra biblioteca dove questa era disponibile. quindi sono state veramente di aiuto le bibliotecarie in cui lavorano. E' stato La cucina del casale di Luisanna Messeri. E' un libro molto bello sia perché ripercorre le tradizioni della cucina toscana sia perché riporta e ricorda l'importanza della stagionalità degli alimenti che si consumano. ovviamente tecnologica e spaziale ma sempre molto umana. pro0 e a a